Musica Andiamo con il premio per la miglior presenza scenica, premio Sisal Quindi facciamo salire Marilena Marino, buonasera Ben arrivata, ben arrivata, anzi bentornata Bentornata Grazie, grazie Grazie a tutti per avermi invitata, ho il piacere di premiare per la miglior presenza scenica, Inarciso Inarciso, miglior presenza scenica, complimenti Grazie ragazzi Posso dire una cosa con Marilena, è un premio importante questo, insomma un premio di valore Sì, sì, è un dato da concordare insieme ad Urban Media Agency daremo la possibilità di esibirsi nel nostro punto vendita di Catania Avete capito, avrete pure una serata dedicata alla sede della Sisalwin City di Catania di esibirete lì Grazie, grazie, grazie mille Fai vedere il premio, fai vedere il premio Complimenti ragazzi, benissimi Grazie a Marilena Grazie a tutti A presto, grazie, grazie mille Grazie ragazzi, complimenti ancora Ciao ragazzi, in bocca al lupo Ciao, grazie a voi Ciao, grazie a tutti Ciao, grazie a tutti